Anche gli organismi di controllo sono molto contenti che venga utilizzato il quaderno di campagna in quanto riusciamo a dare sempre delle risposte in tempo reale anche da smartphone in campo. Dimensione Cultura è un'azienda che opera da più di 50 anni, principalmente nell'area del Veneto. Si occupa di vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura e consulenza tecnica in campagna presso le aziende agricole. La nostra azienda, oltre alla vendita dei mezzi tecnici per l'agricoltura, quindi con cimi, sementi e fitofarmaci, si occupa anche dell'assistenza presso le aziende agricole, presso i nostri clienti. Da più di qualche anno, almeno una decina, ci siamo impegnati anche a supportare i nostri clienti nella compilazione dei registri di campagna per potergli dare un aiuto anche per quello che è oggi uno dei punti critici per la gran parte delle aziende agricole. È un punto critico perché tocca molte norme in costante aggiornamento. Bisogna essere costantemente informati sulle modifiche di etichetta dei prodotti, sulle modifiche anche di utilizzo dei prodotti nelle colture. Lo facciamo tramite Quaderno di Campagna perché è uno strumento che ci permette di essere sempre aggiornati in tempo reale e di dare una risposta certa ai nostri clienti. Quaderno di Campagna è un mezzo tecnico che serve all'interno dell'azienda per registrare i trattamenti che vengono eseguiti in campagna. Come versione di QDC abbiamo la multiaziendale che ci permette di gestire circa 200 aziende agricole all'anno, delle quali 20 a regime biologico. Ho scelto di lavorare con Quaderno di Campagna perché ci permette di essere aggiornati in qualsiasi momento su tutto quello che succede nella nostra azienda, soprattutto per la storicità che possiamo avere a livello burocratico. È utile ai fini di tutti i controlli che possono seguire. Con non-click riusciamo a fornire tutta la documentazione necessaria. Non ti devi più preoccupare di avere carte in più in azienda, di essere sempre aggiornato perché possiamo appunto essere informati ogni giorno di tutto quello che sono i cambiamenti a livello di etichette, di cambi di registrazioni e quindi questo ci permette di non sbagliare. Per quanto riguarda l'utilizzo del Quaderno di Campagna, le difficoltà non esistono in quanto è di semplice utilizzo per tutti. Non vedo difficoltà, è alla portata di qualsiasi livello. Consiglierei di utilizzare il Quaderno di Campagna a tutte le aziende agricole perché credo che sia di fondamentale importanza al giorno d'oggi avere un mezzo che ci possa fare stare più tranquilli e aiutare a non sbagliare.